si tratta dell'acqua sopra c'è quando lo stavo facendo quindi chi ne dovrebbe finire? a fare questa cosa... potete venire, e poi si togne ogni dura caratterizzato sul palco con me perché ti otto la vostra caglia non va a passare, a cui io davanti per favore non va a passare se tu lo volete ovviamente non si può sbagliare ho finito con questo nello cito non va a passare, non va a passare, e poi si tu lo volete non va a passare, a cui io davanti per favore non va a passare, non va a passare, non va a passare se tu lo volete se le volete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti